L'aggiunta regionale sul proposto del Presidente Marco Marsiglio in merito al POR-FSE Abruzzo 2014-2020 ha approvato il cronobilancio POR-FSE per l'anualità 2020. In questo documento viene indicata la previsione di spesa certificata a tutto il 2020 pari a 39.729.314 euro, cifra superiore sia alla spesa certificata nell'anno 2019 che ammontava a 30.599.986 euro che al target di spesa previsto dalla Commissione europea per evitare il disimpegno automatico delle risorse pari a 38.581.855 euro. La previsione di spesa complessiva è relativa a cinque assi prioritari quali occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, capacità istituzionale e amministrativa e assistenza tecnica per i quali sono previsti obiettivi di spesa specifici da realizzare per ciascun anno.